Ben ritrovati al consueto appuntamento con l'informazione del telegiornale di TV City, governo al lavoro per il nuovo DPCM che conterrà tutte le misure anticontagio di aprile, abolite le zone gialle, obbligo di vaccinazione per i sanitari e scuole aperte in tutta Italia. Spazio alla cronaca con l'operazione congiunta di polizia e guardia di finanza, sequestrati 150 kg di cocaina e soldi in contanti. Continua la lotta alla criminalità organizzata, arrestati all'alba esponenti di spicco di un clan napoletano, scoperto invece a Giuliano racket sui furti da auto, veicoli smontati per vendere i pezzi sul mercato parallelo. In conclusione la crisi NU a Torre del Greco, ancora rifiuti per le strade del centro. Questo è molto altro, guardiamo i servizi. Ad aprile scuole aperte ma ancora niente zone gialle. Governo ancora a lavoro sul DPCM che dovrebbe essere pubblicato in giornata e contenere le regole per aprile. Si cerca un meccanismo che potrebbe consentire un margine per le aperture intorno al 20 aprile per le regioni che abbiano dati i contagio particolarmente bassi. Non dovrebbe esserci un automatismo per gli allentamenti che potrebbero riguardare attività come bar e ristoranti. L'ipotesi è quella di consentire le aperture a pranzo. Vietate le zone gialle per tutto il mese di aprile, i tecnici hanno decretato che le misure previste per quelle zone hanno dimostrato una capacità di contenere l'aumento dell'incidenza ma non la capacità di ridurla. L'Italia sarà dunque tutta rossa o arancione fino a fine mese. Discusso anche l'obbligo di vaccinarsi non solo per i medici a stretto contatto con i malati ma per tutto il personale che lavora in strutture sanitarie, infermieri, operatori sociosanitari, dipendenti di RSA e studi privati. Il decreto indicherà anche delle sanzioni per chi rifiuta il vaccino. Non ci sarà il licenziamento ma la sospensione dello stipendio per un tempo congruo all'andamento della pandemia. Quando si raggiungerà l'immunizzazione di massa o si registrerà un calo importante della diffusione del virus, la sanzione verrebbe revocata. Nel decreto ci sarà anche lo scudo penale per i somministratori, limitando la punibilità ai soli casi di colpa grave. Viaggi blindati a Pasqua, con quarantena obbligatoria, rientro per tutti gli italiani che decideranno di passare le vacanze in un altro paese europeo. La decisione è già stata presa con un'ordinanza al Ministro della Salute Roberto Speranza, concordata con il Presidente del Consiglio Draghi. È stabilito che fino al 6 aprile tutti coloro che hanno soggiornato o transitato nei 14 giorni antecedenti all'ingresso in Italia in uno o più stati e territori dell'UE sono obbligati a sottoporsi alla sorveglianza sanitaria e ad un periodo di 5 giorni di quarantena, al termine del quale sarà necessario effettuare un tampone rapido o molecolare. Di sicuro dal 7 aprile non si tornerà a spostarsi tra le regioni. Il divieto verrà prolungato e la mobilità sarà consentita solo per motivi di salute, necessità e urgenza. Si potrà inoltre sempre raggiungere la propria residenza, domicilio o abitazione, nella quale rientrano anche le seconde case, comprese quelle in zona rossa, a patto che siano in proprietà o in affitto con un contratto lungo firmato prima del 14 gennaio. Un'altra delle principali novità del DPCM in cantiere riguarda le scuole. Si tornerà in presenza anche nelle zone rosse fino alla prima media, mentre in quelli arancioni saranno in classe gli alunni fino alla terza media e quelli delle superiori, ma al 50%, e potrebbe essere anche prevista l'indicazione che impedisce alle regioni di emanare misure più restrittive e chiudere le scuole. Nel decreto, infine, ci sarà una norma per sbloccare tutti i concorsi della pubblica amministrazione, compreso quello per i magistrati, dopo il via libera del comitato tecnico-scientifico al protocollo messo a punto al Ministero della Funzione Pubblica. Si potranno fare i concorsi a patto che si svolgano su base regionale e provinciale, evitando dunque lo spostamento dei candidati da una regione all'altra e, dove possibile, in spazi aperti. La Polizia di Stato e la Guardia di Finanza di Napoli, nell'ambito di attività di iniziativa congiunte nel settore antidroga, hanno tratto in arresto tra Giuliano in Campania e Marano cinque soggetti indiziati a vario titolo di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e armi. Sequestrate nel complesso alla squadra mobile dal Gico di Napoli, 150 kg di cocaina, 46 kg di hashish, 9 pistole con relativo munizionamento, strumenti per il confezionamento della sostanza stupefacente e oltre 650.000 euro in contanti. Più in dettaglio, due degli arrestati sono stati sorpresi nel box auto dell'abitazione di un terzo complice, mentre caricavano, all'interno di scomparti ricavati nel vano nella ruota escorta e due autovetture, 100 panetti di cocaina per un peso complessivo di circa 105 kg. La perquisizione effettuata presso l'abitazione di un quarto sodale ha poi portato alla luce, celata sotto il pavimento del suo garage, una botola d'apertura comandata da un sistema idraulico, all'interno della quale sono stati scoperti e sequestrati altri 47 panetti di cocaina per un peso complessivo di circa 43 kg. La contestuale perquisizione all'immobile di un quinto componente dell'organizzazione ha portato al rinvenimento dei 46 kg di hashish, di 2 kg di cocaina, 6 pistole semiautomatiche e relativo munizionamento, 3 revolver con matricola brasa, 12 caricatori, 543 munizioni per arma curta, numerosi stampi per la posizione di marchi sulle confezioni di stupefacenti, una pressa ed altri strumenti per il confezionamento della droga. Anche in questo caso il materiale è stato trovato all'interno di un vano ricavato in una botola nascosta sotto il pavimento e il box auto, è accessibile tramite un sistema ad apertura controllata e tipo idraulico. Durante le perquisizioni all'interno dell'autovettura di un sesto soggetto è stato rivenuto un analogo doppio fondo che, insieme ad altri indizi, ne ha determinato la denuncia penale per le stesse ipotesi di reato. Infine anche la perquisizione dell'abitazione di un settimo componente, effettuata con l'ausilio dei vigili del fuoco di Napoli, ha portato alla luce un sistema scomparsa, cerato sotto il pavimento del piano interrato, che dava accesso ad una botola all'interno della quale sono stati rivenuti e sequestrati 62 involucri in cellofan, contenenti banconote e i variotaglio, per una somma totale di 650.690 euro. Oltre a due macchine conta banconote. Questa mattina, all'esito di indagini coordinate dalla direzione distrettuale della Procura della Repubblica di Napoli, i carabinieri del Comando Provinciale di Napoli hanno dato esecuzione ad un'ordinanza emessa dal GIP del Tribunale di Napoli applicativa della custodia cautelare in carcere nei confronti di otto soggetti, dei quali cinque già detenuti in istituto di pena. I soggetti sono gravemente indiziati, a vario titolo, di rapina aggravata dall'uso delle armi e diverse estorsioni, con l'aggravante di aver commesso i reati per agevolare il gruppo camorristico clan Lorusso e, segnatamente, per conseguire il controllo criminale dei territori di Miano e sui territori limitrofi di Chiaiano, Piscinola, Marianella e Colle Aminei. Le indagini dei carabinieri della compagnia di Napoli Vomero, condotte mediante intercettazioni telefoniche ed ambientali e, grazie alle dichiarazioni delle persone offese, hanno consentito l'individuazione dei responsabili di una violenta rapina e di due estorsioni consumate nel territorio di Miano in danno dei titolari di attività commerciali. I soggetti identificati sono tutti appartenenti al gruppo di Ngop Miano, fazione del clan Lorusso. Tra i destinatari del provvedimento anche Cifrone Luigi, Cifrone Gaetano, già detenuti proprio in esecuzione di un titolo cautelare eseguito a ottobre, con il quale si riconosceva ad entrambi, tra le ipotesi di reato, il ruolo di dirigenti ed organizzatori dell'organizzazione criminale Ngop Miano, per avere la gestione ed il controllo delle piazze di spaccio del territorio ed, in particolare, le piazze di Ascisce ed Eroina. Tra i destinatari dell'ordinanza anche Caldore Gennaro, detto Geni Cioccolato, di Fraia Stefano e Pandolfo Pasquale, già sottoposti a custodia cautelare per il sequestro di persone a scopo di estorsione consumato lo stesso giorno della rapina di cui all'ordinanza oggi è eseguita. Nell'ambito di un'indagine coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord, i carabinieri e la stazione di Qualiano hanno dato esecuzione ad un decreto di fermo nei confronti di due soggetti di etnia Rom, dimoranti negli insediamenti della zona Asi del comune di Giuliano in Campania, ritenuti responsabili dei reati di riciclaggio e combustione illecita di rifiuti. Le indagini condotte ai militari con l'ausilio della Polizia Municipale di Giuliano hanno avuto origine al rinvenimento, nell'ultimo periodo, di circa 300 carcasse di auto che, dopo essere state cannibalizzate, venivano date alle fiamme. Grazie all'installazione, ai sistemi di videoripresa e al servizio di osservazione, la Polizia giudiziaria ha scoperto un fenomeno criminoso finalizzato all'alimentazione nel mercato parallelo dei pezzi di ricambio delle automobili, sul quale sono in corso ulteriori approfondimenti. Non meno grave è stato il danno ambientale causato dall'incendio doloso di così tanti veicoli che determinavano sprigionarsi in nubi contenenti sostanze tossiche. La gravità del quadro indiziario è stata confermata dal GIP che ha convalidato il provvedimento di fermo ed ha immesso la misura cautelare della custodia in carcere. Torno a far parlare la questione rifiuti a Torre del Greco. Nonostante le azioni di riqualifica delle aree della città restano comunque molteplici i luoghi ancora invasi dai rifiuti. Nelle scorse settimane avevamo documentato come le strade periferiche fossero ormai diventate discariche a cielo aperto. Oggi però si è costretti ad accettare la stessa dura evidenza di strade poco distanti dalle vie dello shopping torrese, quali via Roma e via Salvatornoto. Basta allontanarsi di poco, infatti, per arrivare a Vicoabolito Monte, dove i rifiuti, tra indifferenziata non rispettata ed immobili lasciati a bordo strada, incomono tutti i giorni tra le case e sui marciapiedi, costringendo i pedoni a divincolarsi tra un sacchetto e l'altro. Anche su via Vittorio Veneto è possibile imbattersi in parti di arredamento abbandonate. Ormai giunti a metà settimana, con il servizio di igiene e il ritiro rifiuti attivo ed ufficialmente a pieno regime, la città di Torre del Greco resta disseminata di sacchetti sparsi per le strade, che ora non sono più limitate alle aree periferiche, ma il disagio si estende fino al centro cittadino. E con questa notizia si chiude anche oggi questa edizione del nostro Tg. Vi ricordo che potete contattare la nostra redazione inviando un'email all'indirizzo redazione chiocciolatvcity.it o chiamare al numero 340 6561 484. Con questo è veramente tutto. Arrivederci a domani. Grazie a tutti.